Benvenuti in questo video! Allora, vediamo come, come farla, come farla squirtare, sei passaggi per dargli un esame squirt, per farle, per dargli un orgasmo, squirting. E allora, prima di affrontare il tema però, iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Ovviamente, se il video ti piace, metti un like, condividilo con i tuoi amici. Seguimi su Instagram, Massimo Termas Ufficiale, su TikTok. Se vuoi fare una piccola donazione al canale, basta che vai sotto il video e clicchi sul tastino super grazie per una piccola donazione. Se invece vuoi usufruire degli esclusivi vantaggi degli abbonamenti, basta che vai nella homepage, tastina abbonati, vicino al tastino iscriviti. E se non lo vedi con l'app del cellulare, vai con il computer e selezioni l'abbonamento preferito. Ora, come tutti immagino sappiano, lo squirting è semplicemente un'emissione di un liquido che non è pipì. O per meglio dire, così dicono gli specialisti in questo, è una sorta di fontanella, insomma, che può avere anche un getto molto forte e che dà un'intensità, a dire delle donne ovviamente, più forte all'orgasmo. Diciamo che non tutte le donne poi amano questa pratica, non tutti gli uomini anche amano poi questa pratica. Ovviamente, come dire, richiede, non puoi farlo al parcheggio del cimitero, diciamo così, richiede un ambiente, diciamo, confortevole, la possibilità di farsi una doccia dopo, insomma, richiede tutta una serie di cose, perché comunque questo liquido può essere anche tanto, e schizza, quindi può bagnare, quindi bisogna anche predisporre, se uno lo fa nel letto, insomma, un qualcosa. Perché ovviamente può avere delle connotazioni spiacevoli da questo punto di vista. Ognuno è libero di vivere le cose come vuole. E quindi non tutte le donne lo vogliono fare. Se una donna mentalmente già gli dà fastidio, non lo farà mai. Quindi non è questo, perché è una questione proprio di lasciarsi andare, di volerlo fare. Quindi il primo passaggio è avere una donna disponibile a fare questo. Non è che, ecco, non è neanche importante dirlo, perché alle volte se tu dici crei l'ansia da prestazione, non le si aspetta e quando ci sono delle aspettative, no. Però così, in generale, parlando magari prima, in contesti diversi, in situazioni diverse, potresti capire se una donna, alla donna che frequenti piace, insomma. Cioè, diciamo la verità, o una lo fa sempre, abitualmente, e basta, e quindi lo fa di suo, diciamo, quando prova piacere e all'opera capitarti anche la prima volta. Altrimenti è meglio cercare di capire se questa persona poi è eventualmente disponibile. Se fosse disponibile, diciamo, cioè se fosse, perché altrimenti non vale neanche la pena, insomma, di stare a perdere tempo. Il secondo punto fondamentale è quello di farla rilassare, perché il rilassamento è la cosa fondamentale. Cioè, lo squirti non è che avviene durante la penetrazione, avviene se tu ti dedichi a lei, se tu ti dedichi a lei e la fai rilassare, la fai sdraiare, messa in posizione comoda, magari con le gambe, diciamo, un po' piegate, che è meglio, e tu ti dedichi, diciamo, alla cosa. Ti dedichi in che modo? Ma semplicemente anche manualmente, anche perché le donne lo fanno anche, diciamo, se lo fanno da sole, ovviamente lo fanno manualmente. Però è molto importante che lei, durante questa fase, sia molto rilassata, sia completamente rilassata, perché solo attraverso il rilassamento e una concentrazione, direi, quasi narcisistica su se stessi, tu devi semplicemente parlarle e iniziare a delicatamente, diciamo, a toccarle la cicciobella, soprattutto, diciamo, il bottoncino della cicciobella, ma va sfiorato delicatamente. Anche è molto importante andare a stimolare il punto L che si trova, e come chiamare il micio, diciamo, il verso di chiamare il micio, o che avvieni, si trova circa 3 centimetri, più o meno, all'interno della vagina, nella parete superiore. Quindi, inserendo un dito, il movimento è proprio quello di fare il grattino, chiamare il micio, delicatamente. A questo punto si sente, si può percepire, perché ha una consistenza, al tatto, diciamo, leggermente superiore agli altri punti, cioè una ruvidità, come se ci fosse una densità maggiore. Ecco, quindi, esplorando, riesce a trovare questo punto G, ripeto, nella parte superiore e sentendo proprio una ruvidità un po' maggiore, insomma, come se ci fosse un po' più di consistenza, fondamentalmente. Comunque, tutta quella zona lì, come dire, millimetro più, millimetro meno, è molto, è molto irrorata. E quindi, sollecitando poi, in modo anche contemporaneo, il punto G, questo è un approfondimento ancora, e il bottoncino, tra virgolette, soprattutto senza stimolarlo magari direttamente, ma stimolarlo attraverso il propuzio, quindi indirettamente, per non dare delle sensazioni troppo forti, che poi possono essere anche un po' fastidiose, quindi poi dipende un po' dalla donna, come reagisce, diciamo, ogni donna diversa, se ti lasci andare e, diciamo, se lei si lascia andare e se crei veramente un ambiente rilassato, in cui non abbia da pensare veramente a niente, che concentrarsi su se stessa. Ti suggerisco anche di mettere una musica di sottofondo rilassante, per questo veramente aiuta, questo tipo di attività, se proprio non lo fa abitualmente, quindi se non ha i suoi ancoraggi, perché se lei ha i suoi ancoraggi interni, lo può fare tranquillamente, senza nessun problema, ma non perché, diciamo, tu fai qualcosa di particolare, ma perché lei ha degli ancoraggi per cui è predisposta naturalmente a farlo. Ecco, se tu riesci a fare questo, creando questo ambiente vattato, questa musica di sottofondo, e ti dedichi il giusto tempo, partendo delicatamente, cercando anche di capire il suo feedback, non che lo chiedi a voce, perché lei deve stare conoscendo su se stessa, ma il suo feedback, delle sensazioni che tu provi, dopo un po' di tempo, si potrà verificare, diciamo, questa fontanella, quindi questo orgasmo con emissione, diciamo, di una sorta, viene chiamata eiaculato femminile, ma in realtà è una fontanella di liquido, può essere anche tanto, ci sono donne che magari ne mettono anche tanto, che dà un piacere, a detta delle donne, perché solo le donne possono saperlo, più intenso. Ripeto, non a tutte piace, non a tutti gli uomini piace fare questo, però qualora ci fosse la possibilità, e la donna facesse piacere, un modo per, come dire, creare sicuramente una intimità maggiore. Bene, se il video ti è piaciuto, metti un like, condividilo con i tuoi amici, ovviamente, se vuoi fare una piccola donazione al canale, basta che vai sotto il video, e tastino, selezioni il tastino super grazie, fai una piccola donazione, anche un caffè ben accetto, se invece vuoi usufruire degli esclusivi vantaggi e degli abbonamenti, basta che vai nella home page, tastino abbonati, vicino al tastino iscriviti, e selezioni l'abbonamento che preferisci. Ciao a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti. Bene, bene, al prossimo video.